Secondo voi, questa è un'immagine reale oppure falsa? Attenzione a quello che dite perché potreste sbagliare Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy L'altro giorno mentre navigavo su internet Ho scoperto l'esistenza di un sito Non quel sito lì, sporcaccioni Real or fake? Ho detto, oh mio Dio lo devo fare Ma prima di cominciare vorrei salutare una persona che mi ha chiesto di salutarla Che si chiama? Peter, ciao grande Dai raga, partiamo con una prepotenza immensa Questa è la prima foto Potrebbe essere il piccolo di un camaleonte Perché dovrebbe essere falsa, io direi real Oddio santissimo, siamo troppo forti Ci sono delle vacche Perché dovrebbe essere falsa? Io direi real anche questa C'è una mucca che era stata aggiunta completamente a caso? Ok Questo qui è un falco, è un uccellaccio tranquillissimo, bellissimo, maestoso Real, per forza dai Eh vedi, eh vedi Ragazzi dai, queste sono troppo semplici no? Eh, eh, eh Ma questo è un orso polare bello da carezzare, metter solo nel letto e dormire insieme Però potrebbe essere falso Perché quel pesciolino lì mi sembra un pochino troppo messo a caso Io direi fake Che culo Questa, se è vera, il pilota è un grande Mettiamo real Ah Ah E figurati se c'era un pilota così bravo da passare sotto un ponte Cos'è questo? Un gufo con gli occhiali Che sguardo che ha? Però secondo me è vera Qual è il problema? Ah Bello il pavone Con tutti questi colori incredibili Il suo ventaglio Real dai, per forza Eh, vedi cosa sta accadendo in questa immagine? Un'orca che sta uscendo e sta per prendere un gabbiano che ha capito di essere fottuto? Secondo me è falsa Oddio che culo Lo sapevo che il picciolo era messo lì troppo a caso Oh, guarda che tenero il cucciolotto che ci guarda come per dire io sono reale Ma io guarda ti dico che sei reale, sono certo Non riesco a capire se questa è un'immagine reale oppure no Sembrerebbe essere reale Non vedo nulla di strano Real Seriamente? E uno come può? Cioè ci sono C'è un porco gigante Con delle mammelle E anche i porcellini dietro Ma guarda che tenerelli Real dai È un porco Ma guardate che figo il fulmine Che illumina tutta la vallata Guarda, spero sia reale perché è spettacolare Guarda Eh, la vita Una mongolfiera Il cielo azzurro Tutto normale Non vedo perché dovrebbe essere falsa Ah, 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 ah Ho capito Perché? Uno come fa a sapere che lì il cielo è diverso? Ma questo è un procione Molto carino, devo dire Che si è affacciato per dire Chi sei tu? Real Dai che sei reale tu Guarda che non tu sei bello Game over? Ma è finito così? Ma allora ne andiamo a fare subito un altro Qual è il problema? Ok Abbiamo una donna che è in grado di volare È chiaramente una strega A questo punto io oserei dire Photoshop Perché se no mi sentirei inferiore Per fortuna Qua mi puzza di Harry Potter C'è una donna sotto il mare Che cammina beata, tranquilla Come se nulla fosse Come respiri Photoshop Cosa? Tu ora mi devi mostrare Qual è la foto originale Perché io non ci credo Ma questa qui è interessante Perché hanno utilizzato Un effetto specchio Sopra, giù, destra, sinistra E lati Dappertutto Photoshop Ah Beh Quest'uomo ha di sicuro Il riscaldamento spento Ma anche il cane Poverino È rimasto congelato Guarda io spero sia Photoshop E non facciamo caccate Ma cosa stai dicendo? Cioè veramente Sono stati surgelati C'è un uomo appeso Su non si sa cosa Io dire real Infatti potrebbe essere Tranquillamente E beh queste scale Sono davvero utili Metti che vuoi scendere Nell'oceano Un po' come la ragazza di prima E come scendi È ovvio che devi usare le scale Io dico real E che ti avevo detto? Potrebbe essere tranquillamente real Quest'immagine Un uomo che fa luce Ovvio Real Questa penso che sia Photoshop Perché Nove palloncini Non credo proprio Che riescano a sollevarti Quindi Photoshop Attenzione signori Qua si vede la mia osservazione Negli occhi Secondo me Questa immagine è reale L'uomo è stato solamente dipinto Vuoi vedere? Fantastica Ma io penso che sia reale Uno scogliattolo Si è solamente appoggiato E sembra che voglia fare i pesi È real Dai per forza Sono davvero troppo bravo a questo gioco Ma non ce n'è Dai Ma comunque tu hai dei capelli Che non hanno un senso di esistere Spero sia Photoshop Perché potrebbero anche Prendere il sopravvento E strangolarti nella notte Questi capelli Ma dai Photoshop Meno male Questa è una bella immagine Signori Attenzione C'è dell'arte dietro Real Per forza dai Ma cosa? Cosa stai dicendo? Fantastica Ma signori Questa tartaruga è atletica Ma stiamo scherzando Guarda che salto che fa Real Mi voglio fidare Ecco Perfetto Una barca in mezzo al mare Sereno Una tavola Con il cielo Con dei colori sfumati Che ti darebbero la tranquillità Che ti serve per andare avanti E io con la tranquillità nel cuore Dico Real Oddio che bella è questa macchina La voglio adesso Ora Sotto casa Che mi aspetta uno con le chiavi Potrebbe essere Real Signori E invece no Oddio che cavolo è questa roba Ho un pesce che mangia un pesce Ma entrambi hanno la stessa dimensione Com'è possibile questa cosa? Photoshop Secondo me questo vuole imitare Mary Poppins Però non ha ancora capito che non funziona proprio così E probabilmente cadrà di faccia E si romperà il naso Ma io penso che sia Real E infatti Oddio Sembra che la testa di un cammello Esca dal culo di un altro cammello Cioè è intrecciato proprio Real Oddio sì 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 dai Oh Potrebbe essere Real Però molto probabilmente è Photoshop È stata girata l'immagine dai Sono un esperto io Smettiamola Ti prego dimmi come Se è vera quest'uomo merita i milioni Real dai Figurati se è vera Ma cosa? Che cavolo è questa roba? Ma è un sacco a pelo con uno dentro Photoshop Come fa a essere vera quella? Esigo spiegazioni Questo è sicuramente Real Che cosa ha che non va? Ma cosa? E che cos'è questo ingorgo di colori? Cos'è? Photoshop Escono solo le gambe Una che aveva voglia di farsi il bagno Aveva anche un po' caldo In effetti si è lanciata direttamente nell'Antartide Io direi Photoshop Perché altrimenti appena entri in acqua diventi un ghiacciolo Ho sbagliato Ed è finito così? Ne ho sbagliato un botto? Faccio schifo? Ma anche questo test è finito E ovviamente siamo degli esperti D'accordo ragazzi Il video si può concludere qua Ditemi nei commenti quante ne avete azzeccate E quante ne avete sbagliate Se il video vi fosse piaciuto Vi invito a lasciare un bellissimo like Inoltre vi ricordo che Nel descrizione troverete tutti i link dei miei social Instagram, Facebook, Google Plus Quindi se volete Seguitemi su Instagram E mi lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook Iscrivetevi al canale per supportarmi E io ragazzi vi do l'appuntamento Ad un prossimo episodio Ciao ragazzi